Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questa è l'estrazione del contest di GTA Online che avevo dichiarato domenica scorsa sono le 16.59 ragazzi speriamo di fare presto questo video purtroppo non ho potuto farlo in live perché non mi regge la connessione non so perché ma non riesco a connettermi a YouTube con OBS Studio e quindi ho fatto il video vediamo insomma chi ha vinto allora andiamo a cercare il sito random connetpicker quello che uso diciamo sempre per fare le estrazioni e andiamo ad incollare il link del video ragazzi come avete visto ci sono tantissimi commenti tantissimi like vi ringrazio di tutto questo è stato caricato diciamo è stato caricato il video adesso andiamo ad estrarre vediamo Maurizio Bolli vediamo un attimino se ha tutti i requisiti andiamo a vedere se hai il canale pubblico se ci sono i miei video se ci sono le iscrizioni wow ragazzi ragazzi questo mi commenta tutti qua e c'è anche l'iscrizione mi lascia tutti i like mi fa piacere mi fa piacere vediamo il video il video eccolo qui ragazzi mi fa veramente piacere mi fa veramente piacere che sono riuscito a trovare subito diciamo il vincitore non come al solito che tante volte devo aspettare tantissimo tempo e quindi chiudiamo ufficialmente questo contest ragazzi ci saranno nuovi contest quindi non mancate sul canale prossimamente altri contest di DTA metterò in palio delle sharp card metterò in palio qualcosina insomma ragazzi sarà una sorpresa per tutti voi detto questo Maurizio Bolli mi contatti su PSN o su Telegram un saluto a tutti al prossimo video ma che ne sono le due mia wow ciao 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 ciao